Le opere d'arte della diocesi di San Severino e Camerino, attualmente allocate in vari depositi, ritroveranno presto una casa. Un nuovo polo museale nella sede Palazzo Arcivescovile Settempedana sarà allestito grazie a un progetto di rifunzionalizzazione deciso dalla Regione Marche. La Commissione europea ha infatti approvato la modifica del programma operativo regionale Marche FESR 2014-2020, nel quale ha inserito il finanziamento per 1 milione e 100 mila euro. Il complesso architettonico di circa 2820 metri quadri disposti su 5 livelli e oggetto di risanamento conservativo e miglioramento sismico dopo il terremoto del 1997 non aveva subito danni significativi nell'ultimo sisma del 2016 e si presenta come sede ideale per allestire spazi funzionali nel rispetto degli standard museali. Ho comunicato la buona notizia all'Arcivescovo Monsignor Massara con grande soddisfazione perché finalmente l'enorme patrimonio artistico di un'area così colpita potrà presto essere fruito di nuovo, ha dichiarato il governatore delle Marche Ceriscioli. Questa notizia per noi è segno di gioia e speranza, sarà il Museo della Rinascita perché conterrà tutte le opere della Diocesi, un patrimonio immenso e preziosissimo, purtroppo fortemente danneggiato dal sisma, ha affermato invece Monsignor Massara. L'idea progettuale si fonda sul riutilizzo dei locali a sede espositiva, non solo come raccolta delle numerose opere d'arte della zona che sono attualmente non visibili, ma anche una sede di laboratori di restauro delle opere che avevano subito danni. Si potrà procedere ora alla stipula di un accordo in corso di rifinizione fra Regione e Artigiocesi di Camerino San Severino, proprietaria dell'immobile e soggetto attuatore dell'intervento, che ne disciplinerà tempi e modalità di rendicontazione della spesa.